Ecco ragazzi, oggi c'è un nuovo video con questo gioco Dei diavoli, dell'inferno Allora, vediamo Cosa le darò? Cioccolati Io amo cioccolati Raga, io faccio il traduttore perché non so Ho l'inglese Non so l'inglese L'intervento è mio Billy è riuscito a Sbarcare la porta di giunga Ok Ok Allora, vediamo Questo che ha fatto Aron ha fatto Di buono ha fatto Guida dedicata ad aiutare i poveri Ratti Poi di cattivo che ha fatto Non ripostare mai il telefono in modalità silenziosa Ebbè Poi come ma La bella che si Io l'ho cominciata da di so Vediamo Che ha fatto di buono Ha portato la spesa per il ragazzo Per il ragazzo Ha ucciso una vespa E cosa c'è male? Vabbè Chi è? Chi è? Allora Ho aiutato i poveri In un banco A aiutare Wow Non ripostare mai Il telefono La data Si è vinciso Va Questa qua si ti posa in il penno Solo per questo Anche c'è anche l'altro Però vabbè Andiamo ancora Ok Ok Allora vediamo Dammi i tuoi soldi E io penso che sto in bonze E chiamare la polsia Forse non c'è segnale Io provo il bonze Stile compreso Da 14.900 euro E inizia a pagare Ha funzionato Wow C'era la pubblicità che ci piaceva Vai E cosa ordini oggi? La spesa? La tropezza preferita? Ci piace ordinare ogni giorno di più E ora che stiamo più a casa Poi di visitarti nei costi di consegna Con il mio online Avrai spedizioni gratuite e limitate Il mio giorno 6 Cosa l'amor Vabbè Aspetta Oddio il mio capo Oddio Il mio capo Puoi dar fuoco alla sua casa No Io rifiuto ragazzi Caracce lo guarisci i malati Dai da mangiare ai poveri Amarci tutti Certo che l'accetto Io fratello Vorrei avere due giorni più dollari Per divertire in quattro di settimana Porcavo Certo che l'avventura del nostro don Andrei Abbiamo conosciuto il simpatico di Vata Che è ritenuto con le parole a buio Ma quella la nasce Certo che l'avventura del nostro don Andrei Abbiamo conosciuto il simpatico di Vata